Una giovane barista romena è morta durante il parto nell'ospedale Maria Paterno Arezzo di Ragusa. La ragazza, appena 23 anni, lavorava in un locale a Santa Croce della Molto Ben Voluta. La polizia di Stato commissariato di Comiso ha denunciato a un romeno di 41 anni per furto. L'uomo aveva preso di mira un'abitazione di Comiso, ma è stato sorpreso dai padroni di casa. Disaggi inaccettabili nei reparti di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Guzzardi di Vittoria, che vede anche sei partorienti per stanza. A denunciarle i consiglieri di Fratelli d'Italia, Moscato e Nigosia. Conferenza stampa al plesso rodale di Vittoria per discutere del dimensionamento scolastico proposto dall'amministrazione comunale, presenti diversi dirigenti che si dicono contrari. Il Comitato Animalista di Azione Democratica, insieme ad altri movimenti politici, ha lanciato una raccolta di firme contro la sopraffazione e il maltrattamento di animali nei circhi. Ben trovati all'appuntamento con la nostra informazione. In apertura una giovane barista rumena è morta durante il parto all'ospedale Maria Paterno Arezzo di Raguse. Il neonato non è in pericolo di vita. La ragazza lavorava in un locale a Santa Croce Camerina e lascia il marito e un altro figlio. Aperta intanto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Tragedia in sala parta all'ospedale Maria Paterno Arezzo di Raguse, dove una rumena di 23 anni è morta durante il parto. I familiari si sono rivolti all'autorità giudiziare e la procura ha aperto un'inchiesta. Il neonato è rimasto nella termoculle e non sarebbe in pericolo di vita, mentre i titolari dell'esercizio commerciale in cui lavorava la donna hanno avviato una raccolta fondi per pagare il viaggio ai genitori rumeni della sventurata ragazza che lascia marito e un altro figlio. La donna, che lavorava a Santa Croce Camerina, sarebbe morta per improvvise complicazioni durante il parto e gli inquirenti hanno sequestrato la cartella clinica, mentre è stata disposta per giovedì mattina l'autopsia all'interno dello stesso nosocomio Ibleo. Prima però la procura dovrà mandare gli avvisi ai possibili indaganti, ovvero i sanitari, che hanno avuto in cura la donna. Intanto il direttore generale dell'ASP, Maurizio Aricò, ha già disposto un'indagine interna per chiarire le cause del decesso della ragazza. Sulla disgrazia, la parlamentare regionale Movimento 5 Stelle, Maria Lucia Rorefice, rende noto che verrà presentata un'interrogazione al Ministro della Salute. Per sapere, si leggerono il documento, sia a conoscenza dei fatti e quale iniziative intende intraprendere, al fine di evitare che eventi tragici come quelli accaduti all'Ostuola di Ragusa non abbiano a ripetersi. E ancora, se in grado, il Ministro, di fornire dati nazionali e suddivise per regione di donne neonati morti a seguito o nel corso di parti. Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 6.45, incontrata a Bosco, Braccetto, in territorio di Santa Croce Camerina. Uno scontro frontale tra due auto, una station wagon e una berlina, ha provocato il ferimento di cinque persone, tre di queste versano in gravi condizioni. Difficile al momento la ricostruzione del sinistro, ma sembrerebbe che lungo il rettilineo la familiare abbia invaso la corsia opposta andando a impattare sull'altro mezzo. Sul posto i vigili del fuochi carabinieri che non sono ancora riusciti a capire chi fosse alla guida dei due mezzi. Una coppia di Santa Crocesi, marito e moglie, è stata denunciata dalla Polizia di Stato per tentato furto in un centro commerciale. I due avevano tentato di rubare un paio di scarpe, ma sono stati scoperti dal sistema antitaccheggio. Una coppia di coniugi è stata denunciata dalla Polizia di Stato, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, per aver tentato di rubare un paio di scarpe da un negozio del centro commerciale Ibleo. I due, che vivono a Santa Croce, una volta entrati nel negozio di scarpe, hanno iniziato a provarne diverse paia, fino a quando la scelta è caduta su un modello da uomo. A questo punto, probabilmente ritenendo di poter sfruttare la confusione per passare inosservati, l'uomo, coperto dalla moglie, ha calzato le scarpe nuove ai piedi, sistemando quelle già usate all'interno della scatola che veniva riposta in ordine sullo scaffale. Fatto un ulteriore giro nel negozio per non dare nell'occhio, marito e moglie si sono portati verso l'uscita, dove il sistema antitaccheggio ha segnalato che qualcosa non andava. A questo punto, una delle commesse è intervenuta, rendendosi conto che il sistema si attivava al passaggio delle scarpe, riconosciute dalla stessa come nuove ed in vendita in quel reparto. Alla richiesta di spiegazione, il marito della donna non è riuscito a dare risposte plausibili. Nel frattempo, l'uomo, ormai scoperto, ha tentato maldestramente di ritornare sui suoi passi, rimettendo a posto quelle scarpe da dove le aveva prelevate, dimenticando però al suo interno il suo sottopiedi. Nel frattempo, la responsabile del negozio ha chiamato il 113 sul posto e è intervenuta la volante della Polizia di Stato, che ha fatto luce sull'episodio ricostruendo i fatti. All'esito degli accertamenti, marito e moglie incensurati sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per tentato furto aggravato in concorso. E' sempre la Polizia di Stato, ma commissariato di Comiso ha denunciato un romeno di 41 anni per furto. L'uomo aveva preso di mira un'abitazione di Comiso, ma è stato sorpreso dai proprietari una coppia del posto. Mentre il marito lo bloccava, la moglie ha chiamato la polizia, subito intervenuta. Un romeno di 41 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato, commissariato di Comiso, per furto. L'uomo alle prime luci dell'alba di lunedì si era introdotto nell'abitazione di due coniugi comisani, in via Farini. Erano circa le 5.30 del mattino quando la coppia è stata svegliata dai loro cani che abbaiavano. Diversi rumori provenienti dalla strada poi hanno attirato la loro attenzione. I due sono quindi affacciati in strada e hanno subito visto un uomo intento a rubare degli oggetti di loro proprietà, alcuni dei quali erano già stati riposti sul manto stradale. Si trattava di materiale che era custodito all'interno del cassone posteriore di un veicolo fuori uso ed usato come deposito, parcheggiato a pochi metri dalla loro abitazione. Immediatamente il marito ha bloccato il ladro mentre la moglie ha chiamato il 113. Il romeno è stato quindi immediatamente bloccato ed identificato nonostante fosse privo di documenti. Addosso all'uomo è stato invece trovato un coltello sottoposto a sequestro. Il romeno ha ammesso tutto, fra gli oggetti presi di mira, un barbecue in ferro, un motorino per l'acqua e un modesto quantitativo di fili guainati in gomma avente l'anime in rame. La vittima, che è solita a recuperare materiale ferroso da vendere agli sfasci, riferiva che tutti gli oggetti presenti nel cassone erano stati da lui trovati nelle vicinanze dei cassonetti dei rifiuti e lamentava la mancanza di altri oggetti custoditi all'interno del suo mezzo e che erano spariti. Il romeno ha però riferito ad aver agito da solo e che al momento era ospitato da un suo connazionale. Tuttavia spiegava di non saper fornire il suo indirizzo né di conoscerne il nome. L'uomo è stato quindi denunciato per furto aggravato in concorso e porta abusivo di oggetti atti ad offendere. Disagi inaccettabili nei reparti di ostetrice e ginecologia al Guzzardi di Vittoria. Lo sostengono i consigli di Fratelli d'Italia Giovanni Moscato e Andrea Nicosia, a dire dei quali un reparto così delicato viene gestito dall'ASP con una sufficienza senza precedenti. È assurdo come il trasferimento anche momentaneo di un reparto delicato come quello di ostetrice e ginecologia dell'ospedale Guzzardi di Vittoria venga gestito dall'ASP con una sufficienza senza precedenti. Lo dichiarano i consiglieri comunali. Giovanni Moscato e Andrea Nicosia, dopo aver appreso come non reparti in questione, insista un modus operandi come quello di vietare al futuro padre di assistere alla moglie durante il parto. Per i due consiglieri di Fratelli d'Italia si tratta di una decisione dissennata che fa il paio con la sistemazione in vere e proprie camerate di gestanti anche numero di 5 o 6. È facile comprendere come sia nel primo caso che nel secondo si arricchia un disagio non indifferente per cui Moscato e Nicosia si rivolgono alla direzione dell'ASP chiedendo lumi circa questo stato di cose che, rimanendo invariato, arriccherebbero non pochi disagi alle famiglie pronte a vivere con gioia questo lieto evento. Una situazione per i due consiglieri vittoriesi che dimostra come questa direzione generale non si è capace di adempiere a due punti, uno conseguenziale rispetto all'altro, il riferimento e i lavori attualmente in essere nell'originario reparto di ostetricio e se da un lato gli stessi vanno salutati positivamente, dall'altro non si può di certo pensare di gestire in questo modo la problematica in questione. Moscato e Nicosia in conclusione chiedono al sindaco di intervenire presso l'ASP facendo revocare le disposizioni che creano in dubbi disagi all'utenza. La segreteria dell'UGL Ragusa scende in campo per dire la sua sulla presenza del caporalato in agricoltura. Partendo dalle recenti operazioni della Guardia di Finanza, la segreteria del sindacato commenta questi episodi. Ancora una volta la provincia di Ragusa da alcuni definita babba balza agli onori della cronaca per il fenomeno del caporalato. I motivi, come ovvio, sono tutt'altro che nobili e l'UGL decide di scendere in campo. È notizia di questi giorni che la Guardia di Finanza di Vittoria scrivono, scopre molti lavoratori in nero in un'azienda agricola nella zona Ipparina. La Guardia di Finanza ha infatti denunciato cinque caporali per violazioni delle norme sul lavoro, con l'aggravante dello sfruttamento di donne minori, e ha sequestrato tre furgoni adibiti al trasporto dei braccianti. I caporali, scrive l'UGL, sono sicuramente persone spregevoli e senza scrupoli e come tale vanno perseguiti e puniti. Ma c'è un'altra categoria che va perseguita e punita allo stesso modo, quella degli imprenditori agricoli che sfruttano e schiavizzano per il proprio arricchimento. A ciò si aggiunge come corollario l'alterazione delle regole del mercato. Infatti, chi sfrutta ha quote di mercato superiori rispetto ai tanti imprenditori agricoli che pagano il giusto e sono rispettosi delle regole delle persone. L'UGL aggiungono, da sempre attenta al mondo del lavoro, come già dimostrato in passato con le azioni messe in campo a livello nazionale, chiede con forza alle istituzioni di intervenire in maniera sempre più incisiva nella lotta contro il caporalato e lo sfruttamento per il rispetto delle normali condizioni di dignità del lavoro e dei lavoratori e per il ripristino della legalità che sovrintende a tutti i settori, specie quello agricolo. Intensificati dalla Polizia Municipale di Vittoria i controlli in materia di annona e tutela ambientale, resta alta dunque l'attenzione anche negli altri settori di competenza. Nell'ambito dei servizi espletati dalla Polizia Municipale di Vittoria nei giorni scorsi sono stati intensificati i controlli in materia di annona e di tutela ambientale. Personale del comando di Fanello, durante un controllo del territorio, ha accertato l'abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico e ha sanzionato il titolare di un'attività commerciale cui i rifiuti erano riconducibili. Sono stati inoltre effettuati i controlli per la verifica delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi nel centro di Vittoria. Sono state elevate quattro sanzioni a carico di altrettanti esercenti non in possesso della necessaria concessione rilasciata dal competente ufficio. L'attività di controllo svolta in questo periodo, ha dichiarato il comandante Cosimo Costa, che ha permesso di individuare varie forme di irregolarità, proseguirà anche durante le prossime settimane per la tutela dell'ambiente, della salute pubblica e del cittadino consumatore. Continuano anche i controlli sul rispetto delle norme del Codice della Strada. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati controllati 154 mezzi, elevati 104 preavvisi per divieto di sosta, contestati 127 verbali per violazioni varie, ritirate 7 carte di circolazione e una patente, effettuati 5 fermi e 2 sequestri amministrativi, effettuate 2 rimozioni di auto. Le pattuglie di infortunistica sono intervenute per i rilievi in 7 incidenti stradali. In uno di questi, verificato e si invia Pozzo Bollente, nel retro del mercato ortofrutticolo, si è provveduto a denunciare all'autorità giudiziaria il conducente del mezzo. Lo stesso, oltre ad essersi rifiutato di sottoporsi al controllo alcolemico, guidava senza aver conseguito la patente e il suo mezzo era sprovvisto di assicurazione. Per di più, da una verifica al terminale, è risultato che le targhe appartenevano a un veicolo diverso e di un altro proprietario. In un altro incidente, verificatosi all'incrocio tra via Cavour e via Marsala, e che ha visto coinvolti quattro mezzi, tre auto e un ciclomotore, gli agenti hanno effettuato i rilievi e hanno richiesto per il conducente ferito e il controllo del tasso alcolemico. Conferenza stampa al plesso Rodari di Vittoria per discutere del dimensionamento scolastico proposto dall'amministrazione comunale. Presenti diversi dirigenti e rappresentanti sindacali per ribadire ancora una volta che il piano non viene ritenuto congruo ed efficace. Il tema del dimensionamento scolastico al centro stamane a Vittoria di una conferenza stampa convocata al plesso Rodari da dirigenti scolastici e sindacati. Un dimensionamento è stato ribadito a più voci che non piace, che non rispetta dire dei presenti principi cardine di un vero piano scolastico e non rispetta soprattutto il principio della territorialità e della stabilità numerica nel tempo. Di piano di dimensionamento proposto dall'amministrazione comunale. Non ci piace, non ci piace per alcuni motivi. Non ci piace perché non rispetta il criterio della territorialità, non ci piace perché non rispetta il criterio della continuità negli anni, della stabilità numerica negli anni. Primo criterio, criterio della territorialità. Non capisco come fa nella proposta dell'amministrazione un plesso che si trova a nord del comune di Vittoria, è solo un esempio, a nord del comune di Vittoria ad essere aggregato con un altro istituto che invece si trova esattamente all'opposto del territorio, sempre di Vittoria. Quindi mancato il rispetto del criterio della territorialità. Altro criterio, il criterio della stabilità numerica nel tempo. Sì, è vero che l'amministrazione propone di istituire un istituto in più rispetto al piano previsto dalla quasi totalità del mondo scolastico di Vittoria, ma è anche vero che è un'istituzione effimera. A nome di un gruppo di dirigenti scolastici di Vittoria e su delega della coordinatrice, professoressa Spataro, oggi ha indetto una conferenza stampa sul problema del dimensionamento scolastico a Vittoria. per mettere in evidenza quelli che sono i lati che non rispetta, secondo noi, alcuni principi che sono alla base del decreto assessoriale. Il principio secondo cui le direzioni didattiche devono scomparire a favore dell'istituzione di istituti comprensivi. In definitiva è questa la tendenza in molte scuole della Sicilia e dell'Italia. Sulla questione della presenza degli ecocompattatori a Vittoria, il dottore Rino Strano durante una puntata di focus sulla nostra emittente aveva mosso degli appunti sul sistema della raccolta per il riciclo. Oggi c'è la replica del Movimento Azzurro che si era sentito chiamare in causa. Polemica a distanza tra l'esponente del WWF Parino Rino Strano e il responsabile del Movimento Azzurro che hanno avviato a Vittoria assieme ad altre associazioni e col supporto dell'amministrazione comunale la raccolta rifiuti solidi urbani destinata al riciclo. In città come è noto sono stati installati per questa necessità due ecocompattatori ma per il dottore Strano la loro funzione è risibile per non dire inutile e oggi arriva la risposta del Movimento Azzurro. Il dottore Strano penso che sia totalmente desinformato della situazione perché in effetti questi ecocompattatori come dice lui a parte che sono state portate avanti da un'iniziativa fatta da un gruppo di associazioni tra cui i Moves, Grotte Alte, Anonimo Vittoriese e la consulta femminile e quindi lo sfido è trovare dentro questo tipo di associazione qualcuno che possa prendere in giro non lui perché dico ma comunque uno o qualsiasi di tutti i cittadini. Lui diceva vetro e plastica vanno insieme insomma si fa... No, il vetro non c'è completamente ma nei cassonetti ecco a riprova di questa situazione ho fatto anche un paio di foto dove si vede che i materiali vengono suddivisi già dall'ecocompattatore e cadono in sacchi diversi completamente diversi siccome abbiamo il brutto visto invece di guardare le cose da lontano e non andare ad approfondire la situazione o magari chiedere a chi sta facendo questo servizio che cosa succede negli ecocompattatori abbiamo il brutto vizio di prendere il Vuparlè che c'è in giro e quindi su questo farne una questione prendere due parole anche per la differenziata il quale il dottor Strano dichiare che la sua intenzione è di non voler fare la differenziata ai cittadini infatti con questa dichiarazione ci troviamo nelle condizioni che alcuni cittadini buttano l'imbodizia indifferenziata nei cassonetti della differenziata il dottor Strano non sa che quando poi si butta l'imbodizia nei cassonetti della differenziata viene inguinato il materiale e non può essere messo con la differenziata deve venire per forza buttato con l'indifferenziata il consigliere del PD Mario Dasta critica l'amministrazione Piccitto per un'altra occasione perduta per il comune ossia il rifiuto all'invito del maestro Auricchio alla salvaguardia di 5 sarcofagi egiziani Dasta dice non si può vivere solo di Montalbano un'altra occasione perduta per il comune di Ragusa sul fronte della promozione dell'immagine lo sostiene il consigliere del PD Mario Dasta a dire del quale non possiamo continuare a vivere solo di Montalbano Dasta si riferisce al rifiuto dell'invito del maestro Teodoro Auricchio dell'Istituto Europeo del Ristaro di Ischia per la salvaguardia di 5 sarcofagi egizi il commissario Montalbano e sarà un'esperienza importante di grande efficacia ma la promozione dice Dasta può essere tanto altro ancora e merita di elaborare anche strategie utilizzando altri percorsi e opportunità che anche provvidenzialmente si presentano e questo il comune di Ragusa e la sua amministrazione lo sottovaluta lasciandosi scappare di mano un'importante occasione come appunto l'incontro formativo e professionale con il professor Auricchio dell'argomento talalto si è discusso dallo stesso consigliere Dasta la dottoressa Dinella Giardina portavoce del progetto nel corso del quale è stato proprio convenuto sulla necessità di pensare a nuove sfide in definitiva sottolinea l'esponente del PD ragusano si perde l'opportunità per la nostra comunità di trovarsi catapultata su un palcoscenico di rilievo internazionale e tutto questo dopo aver perso anche il treno dell'Expo in cui il comune di Ragusa sarà presente forse con un tendone di 4 metri per 4 evidenziando ancora conclude Dasta la miopia di questa amministrazione grillina il comitato animalista di azione democratica insieme ad altri movimenti e associazioni ha lanciato una raccolta firme contro la sopraffazione e il maltrattamento di animali impiegati nel circo come fonte di divertimento il consiglio comunale se il numero delle firme sarà congruo se ne dovrà occupare i circhi che impiegano animali nascondono una realtà di sopraffazione violenza e sofferenza che non si può tollerare lo sostiene il comitato animalista di azione democratica assieme ad altre associazioni e movimenti secondo cui non è tollerabile che nel 2015 ad un bambino venga imposto uno spettacolo nel quale la sopraffazione del più forte sul più debole sia presentata come un fatto naturale e come fonte di divertimento e quindi non è possibile vedere ancora elefanti che vanno in bicicletta tigri che saltano nel cerchio di fuoco o leoni che si accucciano come cagnolina ad un cenno dell'ora guzzino purtroppo l'amministrazione nicosia prosegue il comitato animalista vittoriese ha finora mostrato un totale disinteresse per la questione animale all'interno del territorio comunale dimostrando in questo modo che all'attuale sindaco gli animali non interessano c'è per fortuna lo statuto della città che fornisce ai cittadini gli strumenti per costringere la politica ad ascoltarli uno di questo è la delibera di iniziativa popolare con cui impegnare la raccolta di almeno 300 firme valide se questo obiettivo viene raggiunto il consiglio comunale ha quindi l'obbligo di calendarizzare la discussione della delibera nell'arco dei sei mesi successivi al deposito allo stesso tempo concludono al comitato animalista vittoriese si chiede una revisione della legge nazionale che ponga l'Italia alla pari di altri paesi che hanno deciso di vetare l'impiego di animali selvatici nei circhi e negli spettacoli itineranti l'associazione Sicily Jets Music che da otto anni organizza il Vittoria Jets Festival ha rinnovato le cariche sociali del proprio direttivo il nuovo presidente dell'associazione è infatti Luciano D'Amico già assessore comunale alla cultura e uno dei promotori organizzatori della prima ora del Vittoria Jets Festival succede ad Emanuele Garrasi che in questi anni ha retto la Sicily Jets Music contribuendo alla crescita della manifestazione lo sport notevole successo ha riscosso domenica a Chiaramonte Gulfi il motore ad uno rotariano Trinacri a Turro oltre 100 rotariani in moto provenienti da tutte le regioni hanno fatto tappa nel centro pedemontano per la sesta edizione del raduno Chiaramonte Gulfi si conferma ancora una volta meta del turismo del sud-est un esempio il motore ad uno di domenica scorsa quando il centro pedemontano ha accolto anche i partecipanti al motore ad uno rotariano Trinacri a Turro oltre 100 rotariani in moto infatti provenienti da tutte le regioni italiane hanno fatto tappe in città metà finale di un giro per l'isola nell'ambito di questo raduno arrivata alla sesta edizione l'invasione festosa in piazza Duomo preceduta una staffetta di 5 centauri del motoclub Gulfi è stata quindi accolta dall'assessuale al turismo allestando Cascone dal comandante dei vigili urbani e da numerosi cittadini l'organizzazione ha beneficiato anche della ristorazione di un rinomato locale e degli addetti ai locali musei che hanno accompagnato la comitiva a lunghi luoghi dove sono state allestite le collezioni che hanno reso famose a Chiaramonte in tutto il mondo nel complesso una bella giornata di turismo e promozione delle eccellenze culturali ed enogastronomiche della Terra Iblea resa ancora più gradevole dall'ospitalità degli stessi abitanti operatori del Centro Montano ed un buon viatico per riproporre in futuro l'inserimento la stessa nella prossima edizione del Tour Rotariano domenica scorsa a San Giovanni la punta si è svolta la gara interregionale di tiro con l'arco presenti anche gli arcieri di vittoria guidati da Peppe Carruba nel corso della gara ottenuti due primi posti due secondi posti e un terzo sul podio sono quindi saliti Alessandra Catalano ed Emanuele Luscalzo seguiti da Matteo Piccione e dallo stesso tecnico Carruba bene anche Marco Cappello che dopo un avvio difficoltoso si è ripreso alla distanza al termine la soddisfazione del team Iparino per i risultati ottenuti nonostante appunto una guerrita concorrenza e ora è il momento di dare spazio ai fatti in primo piano Una giovane barista romena è morta durante il parto nell'ospedale Maria Paterno Arezzo di Ragusa la ragazza appena 23 anni lavorava in un locale a Santa Croce ed era molto ben voluta il neonato sta bene ma crescerà senza la sua mamma che lascia il marito e un altro figlio intanto la procura ha già aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità un'indagine interna è stata avviata anche dall'ASP la polizia di stato commissariato di Comis ha denunciato a un romeno di 41 anni per furto l'uomo aveva preso di mira un'abitazione di Comis o me è stato sorpreso dai padroni di casa il marito lo ha bloccato la moglie ha chiamato il 113 l'uomo è stato presto fermato e identificato dalla polizia di stato che lo ha denunciato per furto aggravato l'uomo aveva preso di mira alcuni oggetti custoditi all'interno di un mezzo in disuso disagi inaccettabili nei reparti di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Guzzardi di Vittoria che vede anche sei partorienti per stanza a denunciarle ai consiglieri di Fratelli d'Italia Moscato e Nigosia a loro dire quindi il reparto viene gestito dall'ASP con una sufficienza senza precedenti e lo svolgimento dei lavori per la realizzazione dei nuovi locali ha solo peggiorato la situazione ai papai inoltre è vietato assistere al parto conferenza stampa al plesso rodale di Vittoria per discutere del dimensionamento scolastico proposto dall'amministrazione comunale presenti diversi dirigenti che si dicono contrari il piano proposto infatti non piace perché ritenuto non congruo ed efficace per i presenti non rispetta i principi cardine di un vero piano scolastico tra questi non rispetta a loro dire il principio della territorialità il comitato animalista di azione democratica insieme ad altri movimenti politici ha lanciato una raccolta di firme contro la sopraffazione e il maltrattamento di animali nei circhi obiettivo è impegnare il consiglio comunale a discutere della possibilità di negare le autorizzazioni a sostare in città ai circhi che impiegano animali per fare ciò però sono necessarie 300 firme la raccolta partirà presto per questa edizione è tutto grazie per l'attenzione arrivederci grazie a tutti grazie a tutti